Grazie a tutti. Diceva Albert proprio all'inizio della serata, vi scaldo un po', direi che ci siamo un po' più scaldati. Comunque, a parte questo, l'acqua di Scandiano che viene sempre in soccorso, io ho sempre voluto farla polistrumentista e stasera ho pensato di presentarvi uno strumento che da poco tempo è diventato, tra poco, l'anniversario di un anno, da quando questo strumento è entrato prepotentemente nella mia vita artistica diventando quasi preferito al pianoforte. Anzi, preferito al pianoforte. Sto parlando del casù. Il caso secondo me merita un posto nella big band jazz e quindi stasera, take five. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.